ciao a tutti ragazzi ben trovati prima lento e poi vi aspetto al video eccoci di nuovo qui ragazzi prima di tutto vorrei ringraziare tutti iscritti ma soprattutto quelli che si sono scritti negli ultimi giorni bomber si ragazzi negli ultimi giorni sono stati tantissimi ragazzi tantissimi ragazzi questo è un video sponsorizzami vai bomber sponsorizzami e qua sotto ai momenti se volete essere sponsorizzati a bomber dovete scrivere hashtag sponsorizzati e state sponsorizzati nel prossimo video poi dovete pure lasciare un bel pollicione in su e vi dovete iscrivere al canale di bomber e rick ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ciri ciao general ciri ciao bomber ma soprattutto sponsorizzami ciao ragazzi ciao 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 ciao